Musica 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 Sì, ma già stiamo arrivando. Grazie. Che le amè, mi falta molto. Sì 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 Tu sei un disco di La vieja guardia No sai Mi sono Mi sono D'accordo Ma Ah? Detta sai. E' un ucciso? Aham. Come con la vita hai? Ah, come con la vita hai. Ah, come con la vita hai. E' un ucciso. Ah, sierzo. Ok. E' un ucciso? Ucciso. E' un ucciso. E' un ucciso. Sì, c'è la gente che arriva. Sì, c'è il posto e lo vendiamo. Aproximadamente sono 4.35. E miro come sta ricco l'acqua. Sì, c'è 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 l'acqua. C'è l'acqua. Sì, c'è l'acqua. Sì, c'è l'acqua. Sì, c'è l'acqua. Sì, c'è l'acqua. Grazie a tutti. 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 . a tutti. 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 . . a tutti. 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 a tutti.